Un protocollo d'intesa è stato sottoscritto nei giorni scorsi dal sindaco di Silvi Andrea Scordella e dal presidente del circolo nautico Silvi Mario Gattone con l'intento di avviare l'iter per la realizzazione del Museo del Mare. L'obiettivo principale dell'accordo è quello di non far dimenticare alle nuove generazioni le antiche radici profonde del mare dal quale la popolazione di Silvi ha tratto la principale fonte di vite e di economia. Il museo nascerà nella sede del circolo nautico mentre il comune si impegnerà a fornire materiali e reperti in suo possesso. Erano già due anni che lavoravamo su questo progetto, un progetto importante. Silvi nasce sul mare e con il mare. Tantissime sono le memorie storiche dei tanti naviganti silvaroli che hanno veramente solcato tutti i mari e non vogliamo far morire la memoria storica di queste famiglie e perciò il comune di Silvi si è impegnato insieme al circolo nautico che metterà a disposizione parti dei propri locali proprio per realizzare un museo del mare in memoria e ricordo dei tanti che hanno vissuto il mare, veramente tutti i mari del mondo. Quali sono le cose che andranno messe in risalto? Io ho avuto la fortuna di assistere a un patrimonio di oggettistica, di ricordi, di fotografie, veramente un patrimonio che non deve andare disperso e dunque questa amministrazione ha fatto una scelta, quella di tutelare e preservare tutte queste bellezze. Adesso non le svelo però voglio dire veramente dalle conchiglie storiche di tutti i mari riportate poi negli anni e nei tempi quando si poteva fare e dunque veramente un patrimonio che sarebbe un peccato disperderlo.